Salve ragazzi e ragazze, o quello che è, il mio nome è Capitan Jack Sparrow, avrete sentito parlare di me. Come forse saprete ci sono volte, quasi tutte le volte, che preferisco guardare il mondo attraverso un bicchiere. Di rum. Questa è una bottiglia. Avrete anche sentito dire che Jack Sparrow sta reclutando una ciurma per intraprendere un viaggio alla fonte della giovinezza. Non vero. Proprio no. Ma anche se non fosse non vero, a voi non interessa unirvi a me, no? Ehi? Grazie a tutti.